In America dicono, Zamperini, morto. Dicono alla tua famiglia che sei morto in guerra. NBC dice all'America che il famoso corridore olimpico Zamperini è morto. Vuoi dire a tua famiglia che non sei morto? Questi gentiluomini lavorano per Radio Tokyo. Abbiamo un programma tarasmesso in tutto il mondo. Si chiama Postman Kohl's. Ciao, madre. È tuo figlio che ti chiama. Madre, ti voglio bene. Sono vivo, sto bene. Ok. 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 Grazie.